Siamo pronti ad applicare tutte le misure di precauzione che ci sono state adottate dalla scuola tramite email negli ultimi giorni. Siamo felici di tornare a scuola, diciamo sicuramente meglio della didattica a distanza. Stava tutto pubblicato sul sito in tempo utile affinché ci potessimo organizzare stamattina per il rientro. La scuola ha gestito bene il rientro per chi ha pubblicato tutto sul sito, pertanto ci ha informato degli orari, delle norme anti-covid, sicurezza, distanziamenti, obbligo di mascherine, igienizzanti. Dobbiamo sapere che c'è l'eventualità che succeda, che ci sia il virus che circola, questa è una fase in cui dobbiamo conviverci e quindi io sono preparata. Hanno detto solo l'essenziale in modo sintetico, in modo esatto, senza fare polemiche e senza lamentarci di niente. Questo è il motto della Preside. Siamo pienamente soddisfatti, abbiamo raccolto i frutti di una preparazione intensa. Per il momento ci siamo attenuti sicuramente a tutte quelle che erano le indicazioni dell'ingegnere della sicurezza, del Ministero. Abbiamo fatto entrare i ragazzi a turni sfalzati. Per quanto riguarda la distribuzione del Ministero, solo una sola volta siamo riusciti ad avere delle mascherine. I banchi forse probabilmente non sono stati nemmeno richiesti dal dirigente che mi ha preceduto, perché devo dire che in questo momento abbiamo avuto anzi la difficoltà a disfarci dei banchi che avevamo. Se facciamo squadra, siamo uniti e soprattutto abbiamo una comunione di intenti e l'ottimismo di poter continuare, probabilmente riusciamo anche a far scuola seriamente.